Good morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti! Come state? Come va? Dove state andando di bello questa mattina? Siete già in giro? Siete già svegli? Non piove! Giusto? Ci confermate che non piove? Elisa mi confermi che non piove? Giusto? Ok, perfetto, non piove. Qua fuori non piove, non so dalle vostre parti. Per il momento bello e il tempo, speriamo che tenga, anche se ieri sera ho chiesto al mio assistente vocale, avete quello... Alexa? Adesso vediamo quanti se ne sono attivati in casa vostra. Domani piove, molto probabilmente pioverà, 70%, quindi non è bassa la percentuale. Però per adesso sta tenendo, come sempre, il consiglio è portatevi un cambio al lavoro e lasciatelo in un armadio al lavoro. A questo punto è questa la... Io continuo a portare avanti la mia crociata verso le cabine armadio nei uffici. Cioè, questa, secondo me, può essere l'unica soluzione a ormai un clima che non ci dà tregua e non ci dà certezze. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. Comunque, vabbè, oggi è il 4 giugno, sono le 7 e 10 in questo istante e siamo qua, come sempre, su Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus e tutta la Lombardia e tutte le altre tecnologie che vi permettono di passare la vostra mattinata insieme a noi. C'è anche il WhatsApp al 331-7853-555. Spesso e volentieri, non ve lo dico così lentamente, guardate, posso arrivare a 331-7853-555. Perché lo so a memoria ormai, ma a volte ho dei dubbi, proprio delle analisi temporanee mentre ve lo dico e quindi vado veloce, dicendo 355 così, così almeno non faccio figuracce. Invece ce l'ho. Adesso ascoltiamo la canzone e poi vi spiego perché. Tanti auguri a Born in the USA. Bruce Springsteen, Born in the USA, compie oggi 40 anni. Eh sì, eh sì, era il 4 giugno del 1984. Tra parentesi, sto pensando in un momento olimpico. Era un'olimpiade difficile, il quadro 84 a Los Angeles. Insomma, un momento in cui esce una canzone che, se non ascolti il testo, vabbè, pensa sia un inno americano. In realtà è un inno a un'America che lui vorrebbe, ma che non c'è. Quindi, insomma, è un pezzo davvero interessante. Poi lui, no, ragazzo del New Jersey, che dice Born in the USA. Quindi c'è anche tutta una rivalza di quelli che tecnicamente all'epoca non erano considerati magari gli americani veri che si dicono invece, no, I was born in the USA. Quindi, insomma, un pezzo che ha consacrato Bruce Springsteen e che l'ha fatto diventare quella star che fino a quel momento non era. Perché adesso io poi, io ovviamente non me lo ricordo, ma appunto andando a rileggere gli annali e andando a rivedere le classifiche di quegli anni, non era il Bruce Springsteen, l'icona che adesso conosciamo. Era uno che si stava già facendo un gran mazzo da tanti anni nella musica. Aveva già pubblicato degli album comunque importanti, ma non come quel 1984 in cui appunto il 4 giugno di quell'anno fece uscire questa canzone che, vabbè, lo consacrò in tutto il mondo e che appunto vide arrivare a un successo meritatissimo un grande artista appunto come Bruce Springsteen. Quindi tanti auguri al boss, tanti auguri anche per, insomma, sappiamo che ha la Rau Cedine, quello che c'ha, nel senso quindi che ha dovuto far saltare i suoi ieri sera. Sarebbe dovuto esserci il secondo concerto a San Siro, che però non è stato fatto. Adesso vedremo se usciranno a breve le nuove date. La vedo dura per quest'anno, nel senso che davvero non ci sono giorni liberi. Cioè, Vasco sta già montando, credo. Se non sta già montando oggi, forse è anticipato, quindi nel senso sta già montando che inizia l'undici. Quindi pensate quanti giorni ci vuole a montare tutta la scenografia. È vero che sta qua una settimana, se non dici, sta qua un mese Vasco Rossi, però ne riparleremo l'undici. Comunque al 331-78-53555, questa mattina, guardate come me lo ricordo bene, mi avete già scritto. Amici di Cristiano Radio, buongiorno. Un saluto al direttore Fabio e alla redazione. Buongiorno a te Alberto. Questa mattina una domanda. Alberto, stamattina non è fattuale, ma è questione. Question time di Alberto questa mattina. Insieme alle riciclerie a Milano, stanno scomparendo anche i cestini di rifiuti nelle strade. L'avete notato anche voi? C'è un po' di fattualità anche in questa domanda, però. Allora, ma effettivamente sì. Allora, per le riciclerie in realtà non è che le stanno buttogliendo, le stanno riorganizzando. Il problema è che come al solito cosa si fa. Prima si chiude e poi si riapre. Quindi, ad esempio, quella famosa in Piazza Napoli, che ha visto, però non è possibile, dove Piazza Napoli, il cavalcavia che va sopra il naviglio, per intenderci, dietro la chiesa di San Cristoforo, al momento non ha ancora visto una nuova ubicazione. Dovrebbe esserci, ma non è ancora stata spostata. Quindi, effettivamente, quella zona in Milano al momento è un po' sprovvista. Tra parentesi, riciclerie che sono fondamentali per la gestione della vita milanese, non so vostra, ma nostra sicuramente. I 3x2 abbiamo roba da portare in discarica. Vecchie macchine del caffè, pezzi di sedia che si sono rotte, insomma, cose... Le pile, le pile, quintalate di pile che non so perché. Quanti telecomandi abbiamo in casa per tutte queste pile? Comunque, vabbè, non lo so. I cestini, sì, è un bel po', secondo me, tra parentesi. Non lo sto notando da tanto tempo. In più, mi ricordo che qualche anno fa, intorno al momento Expo, era stata invasa la città di Cestini. C'erano cestini ovunque. Poi sono scomparsi nel giro di sei mesi. Chissà dove saranno finiti. Sì, ma in qualche giardinetto lo troviamo. Casa di qualcuno, anche in qualche salotto, magari. Qualche salotto fa molto VIP, il cestino milanese. Com'è il traffico, invece? Gali con paprika alle 7.22. Come siete messi con la routine mattutina? Sono le 7.22. A questo punto voi cosa avete in mente? Dove dovete essere nella vostra routine mattutina? A che punto siete? Siete già dopo i denti o prima dei denti? Cioè li avete già lavati o no? Avete già fatto l'acconciatura? Oppure no? Cioè vi siete già lavati i capelli o no? Ma come funziona? Il caffè lo avete già preso? Oppure è l'ultima cosa che fate prima di uscire di casa? E questo è perché noi so che molti di voi ci utilizzano come scaletta, no? Della mattinata. Sanno che se arrivano alla seconda canzone che mando e sono ancora in bagno, orca miseria, sono in ritardo perché perdo il tram che devo prendere entro la sesta canzone. Tu vuoi scherzare? So che alcuni di voi magari non ci credono, ma so che c'è gente che lo fa questa cosa. So che c'è gente che anzi, che mi è successo a volte magari, lo so, di chiudere prima oppure di dover mandare una canzone più lunga e quindi siamo andati un po' più lunga così che è disperata e diceva no come c'è già la sigla io sono ancora sul divano? Cioè così, no? Cosa del genere. Ah, ma tra benzi, voi siete di quel club che invece si alza un po' perché poi so che ci sono quelli e io a volte ho fatto parte di quel club quando facevo lavori un po' più normali che venire tutti i mattini in radio a tediarvi la vita che si alzano, fanno le loro cose con calma, ma poi hanno un momento in cui sussimano sul divano e magari, non so, o si leggono il giornale, guardano il telegiornale con calma ma non mentre fanno colazione, c'è proprio un momento di pausa. Cioè nel senso che voi avete iniziato la giornata da tipo 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti e fate già una pausa. Io ad esempio l'ho fatto più di una volta ed è bellissimo. Cioè iniziare una giornata con una pausa è qualcosa di stupendo. Comunque Nello ci dice colazione al bar, i denti lavano in ufficio. Ma dai, davvero? Interessante come cosa questa. Cioè non so se è vera nel senso che... No, perché no, può essere. Interessante, interessante. Anche voi dei colleghi si lavavano i denti in ufficio quando lavoravo in ufficio. Effettivamente. Una cosa che mi ha sempre fatto specie, però in realtà è normalissima. Cioè quelli... Voi siete allora... Altra domanda. Siete del club e del team del dopo la pausa pranzo mi lavo i denti? Che sarebbe da fare, eh. Sarebbe da fare. Mai fatto in vita mia. Però sarebbe da fare. Infatti il mio dentista è felicissimo di questa cosa. No, perché ad esempio avevo tantissimi colleghi che... Finita la pausa pranzo che si faceva anche fuori. Quindi uscivamo dall'azienda. Se andavano in pausa pranzo si tornava dentro e a quel punto li perdevi per dieci minuti perché andavano in bagno a lavare i denti. Io andavo in bagno per altri motivi perché non è che mangiavamo in posti buonissimi, quindi... Cioè, hanno altri problemi. Però no, no. È vero. Questa cosa qui del... Bravo Nello. Bravo che fai la colazione al bar e ti lavi i denti in ufficio. Bravissimo. Comunque, se anche voi volete condividere la vostra routine mattutina con noi o capire un po' meglio come è, si può strutturare insieme... Ma no, bellissimo. Ecco, vedete? Nello ci ha mandato in questo momento la foto via WhatsApp dell'astuccio, del suo astuccio verde mi sembra, con dentro il suo spazzolino e il suo dentifricio. Eh, beh, ma ragazzi, avete mai visto il sorriso di Nello? È una di quelle cose che non puoi guardare direttamente. Devi guardare la riflessa di un vetro o uno specchio, sennò diventi di pietra, perché la bellezza a volte è ingestibile dai nostri occhi umani. Quindi, vedete? Ed ecco qual è il segreto. Ecco qua a voi il segreto del sorriso di Nello. L'astuccino verde con dentro il white tension, no, come si chiama? White evolution, come si chiama? White evolution, qualcosa del genere. E lo spazzolino da denti. Ebbene sì, guardate che consigli che vi diamo. Che consiglioni che vi diamo questa mattina. Grande musica anche, un salto nel passato, ma secondo me alcuni riconosceranno la voce e riconosceranno anche la canzone. Claudio Baglioni con Sabato pomeriggio. Io non sapevo che questa canzone si chiamasse Sabato pomeriggio. Non sono un grande fan dei Baglioni, quindi effettivamente la conosco, l'ho sempre cantata a scorciacola come molti di voi credo abbiano fatto in questo momento a casa. Anche perché sono arrivati due Whatsapp che devo interpretare, almeno uno dei due. Perché ci scrive Adriana dicendo, buongiorno Fabio, accidenti, Baglioni alle 7.30, buona giornata. Non ho capito se quell'accidenti era un ammazza, pure Baglioni alle 7.30, ma come mi sveglio. O se, che bello Baglioni alle 7.30. Di conto arriva il Whatsapp di Erika che dice, che pezzo, grazie per questo momento struggente alle 7.30 di mattina. Quindi abbiamo capito che d'ora in avanti, lo dico anche Elisa della redazione, se dobbiamo mettere Baglioni 7.30 l'orario. Fa hype, fa messaggi, non lo so. Così ci scrivono, quindi non ho capito però se quell'accidenti era un bel accidenti o un mi è venuto un accidenti. Già non ho capito questo. Invece ci scrive Alberto per tornare, no, scusate, prendiamo in ordine cronologico. Prima di tutto complimenti Anello che ha riconosciuto nel pezzo prima della pubblicità Itimoria, grande gruppo degli anni 90 italiano, con Francesco Renga. La voce che sentite cantare in quella canzone sono due, le voci sono due. Una è Omar Pedrini, l'altra è Francesco Renga con Lasciami in Down, appunto uno dei pezzi storici del gruppo bresciano dei Itimoria, da cui appunto poi è uscito Francesco Renga. Invece dicevo Alberto ci scrive che la colazione, no, torniamo sul tema colazione perché direi che l'orario è quello giusto per parlare di colazioni, e mi dice la colazione è a casa appena alzato. Poi i denti li lavo mentre Fabio ne stava parlando, proprio mentre io stavo parlando di lavarsi i denti lui si stava lavando i denti, quindi vedete come siamo sincronizzati qui a Crystal Radio, e poi caffè, ultimamente marocchino, al bar con amici o colleghi prima di iniziare la giornata. Quindi fa diciamo una colazione, mezza colazione a casa e mezza colazione prima di entrare in ufficio. Questo è un po' quello che fa il nostro Alberto, e potete anche voi, se volete condividere con noi la vostra routine mattutina, che anzi vi ringrazio come sempre di fare insieme a noi, io capisco che c'è gente che la mattina non vuole parlare con nessuno, non vuole sentire nessuno, non vuole sentire niente tranne la mia voce. Cioè questa cosa qui io non posso che ringraziarvi, non posso che anche stupirmi, devo dire, di tutto questo. Forse devo dire che, e ringraziamo ancora l'ufficio programmazione di Crystal Radio, i pezzi che mandiamo aiutano, aiutano a far ascoltare questa radio. Io non vorrei dire, ma insomma, devo dire che questa mattina davvero una grande scritta musicale, ho davanti anche i prossimi pezzi qualcosa di pazzesco. Tra parentesi ve lo dico, quello delle sette e mezza, dopo la pubblicità, il classicone sarà un classicone. Cioè oggi c'è Baglioni, ma vedrete anche nei prossimi giorni, comunque vabbè. Ecco, ma poi arriva anche chi quasi chiede scusa, ma non vorrei, cioè ci mancherebbe povera Marilena che scrive in questo momento dicendo Ciao Fabio, io vorrei scriverti più spesso, ma sono sempre in ritardo. Ebbene, ecco, forse lei è una di quelle che se basa la sua mattinata sulle nostre canzoni o le nostre chiacchierate, effettivamente poi in base alla durata della canzone si rischia poi di essere sempre in ritardo. Non c'è problema, Marilena sappiamo a questo punto, grazie al tuo WhatsApp, che sei sempre in ascolto con noi e quindi grazie anche a te di ascoltarci tutte le mattine, grazie anche a te, e quando puoi, quando magari non sei in ritardo, quando magari invece il ritardo lo fa il mezzo e quindi sei lì ad aspettare, magari a quel punto scrivici pure. E noi siamo ben contenti di condividere anche con te la nostra mattina. Questa mattina davvero tantissimi WhatsApp che stanno arrivando, anche grazie alla musica, anche grazie alla musica che sentiamo adesso. E queste erano Paola e Chiara con Festa Totale, la festa che faccio sempre ogni volta che so che siete in tanti ad ascoltarci ogni mattina, insomma, che è grande festa alla Corte, non di Francia, ma, come dire, di Crystal Radio. Come posso dire meglio, chiede Adriana, credo che sia, infatti, un accidente nel senso di contentezza, perché poi ho visto delle emoticon con faccine, con cuoricini, peppere, peppere, peppere. Come si chiama quell'emoticon che c'è il cono? Elisa, tu che sei della nuova generazione, allora chiedo alla mia Elisa Galmarini, producer di questo programma, allora c'è quell'emoticon che è una sorta di cono da dove escono fuori cose, cioè, come si chiama? Peppere, 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 come si chiama? Che cos'è? Eh? Non ti sento? Festa, si chiama. Emoticon Festa Party, così, ok. Ma che non ho capito, poi io non sono, cioè, allora io non è che sono un tipo da festa, eh, però non ho mai visto quella roba lì in vita mia, cioè non ho capito in che feste mettono questi coni, boh, non so, quella roba lì che devi spaccare, la, come si chiama? No, la cuccagna, la, boh, non lo so, la pignatta, è una pignatta, non lo so, non capisco. Comunque, vabbè, è stato tutti contenti, quindi, del baglioni alle 7 e 30. Trombetta, ma no, ci suggeriscono via WhatsApp trombetta, ma non è una trombetta, ma no. Ah, ma vuoi dire che quella lì è? Che è la trombetta quella, boh, 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 quella è così. No, non credo, non credo, scusate se in questo momento qualcuno si sta ascoltando in cuffia e gli ho spaccato i timpani. No, 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 ma non mi sembra una trombetta. Beh, se è una trombetta il designer, chi la ridisegni? Ma no, ma c'è la trombetta, secondo me, tra parentesi, da qualche parte. Comunque, possiamo dare notizie, questa mattina dobbiamo continuare a parlare di cose inutili, eh? Perché ci sono nuove grani in arrivo per Corso Buenos Aires, bravi! Ebbene sì, Repubblica Milano, nuova grana in Corso Buenos Aires, due progetti diversi per il verde, piante in vaso da una parte, alberi più alti nelle vasche dall'altra. E dopo che leggi questo titolo dici, eh, vabbè, sai che problema, sinceramente non si capisce anche da questo titolo. Si cerca una soluzione per uniformare il futuro della strada. Il progetto, davanti al corte di Baires, segue decisioni originali, ma sul resto del marciapiede il comune ha deciso diversamente. Capito? Ma non si riesce, cioè, non ci credo che non possano mettere le vasche e i vasi dello stesso colore, anche se le piante sono un po' diverse, ma anzi, se non omologhiamo tutto, forse anche me... Non lo so, sono molto esterrefatto da questo articolo che compare su Repubblica quest'oggi, su un tema che davvero, boh, cioè, nel senso, è questo. Ah, questo è il problema di Buenos Aires, capite? Non il traffico, le biciclette che non si capisce da che parte girano, i cordoli che la gente non vede, ci va sopra con la macchina, che io posso dire, ma come fate a non vedere un cordolo? Cioè, cosa state facendo mentre guidate se non vedete un cordolo di cemento? Cioè, questo che mi chiedo io. Trappertutto sento dire, certe gente che in intervisti dicono, eh, ma perché io, cioè, col SUV non lo vedo. Eh, ma, per te, il problema, forse, è che ci sono questi SUV immensi, perché poi non facciamo di tutti i SUV un fascio, nel senso, cioè, non è che tutti i SUV sono solo no, però l'altro ieri ne avevamo visto, ne ho visto una, adesso non mi ricordo che marca, forse, anche se me lo ricordo, non lo direi mai, se me lo ricordassi non lo direi mai, cioè, hanno un lunotto dietro, che è il vetro di dietro, intenderci perché è meno avverso le macchine, che è minuscolo, minuscolo. Hanno 800.000 sensori, quindi tu cominci a suonare, non capisci da che parte devi andare, e hanno questi specchietti dove praticamente non vedi assolutamente niente. Insomma, quindi, il problema, ma il problema è il cordolo. Va beh, vedremo come andrà a finire in corso Buenos Aires, vedremo se vanno le vasche, se fanno i vasi, o se alla fine non mettono niente, così fanno prima. E una bella colata di cemento, sempre bella, presente anche in corso. Buenos Aires, musica! Black Eyepiece, ehi mamà, ehi mamà. E invece, grazie ancora per i Whatsapp che stanno arrivando, e soprattutto sul tema, appunto, di corso Buenos Aires, i cordoli di cemento, così, no, che dicevo, hai questi, i costituzionali che dicevano, hai col SUV non li vedi, dicevo, beh, il problema è il tuo SUV. Invece, giustamente, Nello mi fa, mi dice una cosa, dice, ma non è tanto questione di SUV, è spesso solo questione di telefono in mano, ed è sempre così. Quindi, effettivamente, è vero. Tra parentesi, mi viene da dire, ma perché, soprattutto su certi tipi di macchine, avete il telefono in mano, se avete tutta la tecnologia del CarPlay, Apple Play, Bluetooth, Wi-Fi, vi manca l'idromassaggio, e la centrifuga, avete anche quello, cioè il vostro cellulare potrebbe rimanere tranquillamente a casa, e in automatico, grazie a una connessione neurale, neurale, si connette con la vostra macchina che vi manda da solo i WhatsApp al lavoro dicendo al vostro capo se siete in anticipo, in ritardo o in orario, niente, sempre sul cellulare in mano. Cioè, perché? Abbiamo costruito cuffie che ormai si possono inserire sotto pelle, sotto il timpano, anzi, vi togliete il timpano, mettete la cuffia al posto del timpano, niente, sempre questo cellulare in mano. Ma io non capisco, davvero. Cioè, guardate, è una delle cose, io ne faccio tante cose che non vanno fatte nella vita, ma quella è una delle cose che non faccio mai. Nel senso che davvero è... Anche perché poi non è che c'è... Trapprendizia a Milano, cioè, basta che aspetti un attimo, arrivi al semaforo, se proprio devi fare, tiri su, tattà, tattà, che tanto dura la vita, mandi un WhatsApp se proprio devi farlo, eh. Ma mentre vai, è veramente complicato. Cioè, soprattutto poi, in Corso Buenos Aires, dove c'hai, oltre al Cordulo, che sai che c'è, anche se non lo vedi, perché ne hanno parlato chiunque ne ha parlato, chiunque, chiunque passava di lì, ma anche non passava di lì. Credo che se andiamo a prendere il Bombay Tribune, il giornale è di Bombay, molto probabilmente c'è un articolo anche lì che parla dell'acciclabile di Corso Buenos Aires, perché chiunque nel mondo ne ha parlato. Niente, tu lì in Corso Buenos Aires, in mezzo al marasma più totale, cosa decidi di fare? Tirare fuori il cellulare mentre guidi. Beh, complimenti. L'altro tema di giornata che ha scatenato i vostri WhatsApp, ha scatenato anche la redazione e la ricerca di una soluzione, grazie a Lisa Galmarini per aver trovato la soluzione, è cos'è quella emoticon con il cono in Apple, ma anche in Android il cono è giallo e rosso, tipo arancione, rosso, a strisce, con tutti i coriandoli che escono da sopra. C'è chi ha detto trombetta, io pensavo fosse la pignatta, qualcun altro suggerisce Vuvuzela, lo ricordate a Vuvuzela? Così tutti i mondiali, tu marroni ci ha fatto. E invece, la buona e brava Lisa Galmarini cosa ci trova? Ci trova che il nome ufficiale di quell'emoticon è Bomba di Coriandoli, e c'è anche una spiegazione, presta da che sito è questo qui? Non c'è scritto, è comunque un sito che spiega le emoticon, pensate a come siamo messi. E Bomba di Coriandoli la spiegazione dice Buon compleanno! Il cannone spara Coriandoli, sputa fuori una fontana di stelle filanti e Coriandoli. Una celebrazione o una festa potrebbero bollire in pentola. Qualcuno ha avuto successo e ne gioisce. Sapete, è sicuramente interessante, adesso ha tutto un altro valore questo emoticon, cioè adesso la userò con una consapevolezza che prima non avevo. Voi usate, voi, non è proprio schiverli, sapete, bere con responsabilità, guidare con prudenza, usare con consapevolezza l'emoticon. Perché non è che le puoi usare così a caso, come facciamo tutti. Un esempio su tutti le famose due mani giunte che in realtà non sono un pregare ma nascono come un Gimme Five dal 1500. Tutti quanti le abbiamo usate invece come un pregare, anzi un po' come un Namaste Ale, cioè quella roba lì, tutti quanti con un Namaste, come un Grazie Mille fatto un po' alla Namaste. Comunque, bisogna studiarle, bisogna studiarle. Donatella Rettore con il Cobra qui alle 8.06 sempre su Crystal Radio e mentre eravamo fuori onda ci siamo messi a lavorare, soprattutto la mia producer Lisa Galmarini ci siamo messi a lavorare su un sito che abbiamo detto che si chiama emoticonspiegate.it una cosa del genere, adesso poi lo ritroviamo bene, comunque vabbè. Oh ragazzi, c'è un sito che vi spiega le nelle tutto quanto. Ad esempio c'è ah ecco, ad esempio la mano, ecco, un emotico che non ho mai capito, quella della mano che sembra che prende su qualcosa, si chiama significato.it emoticonsignificato.it vabbè, pensa a te che roba. Comunque vabbè, la mano con il palmo rivolto verso il basso sono io che tengo i fili, vedete, cosa vuol dire? Non vuol dire ho preso qualcosa, vuol dire ti sto manipolando, eh vedi? E raggiungere qualcosa o lasciare andare qualcosa, in alcune culture questo segno viene utilizzato anche come richiesta vai via o vai piano. Ah vedi, quindi in realtà niente, si può usare per qualsiasi cosa. Vabbè, poi c'è l'applauso, vabbè l'applauso ben fatto, ok? E poi giustamente non so se è rivolto a me o cosa, ma la mia produzione mi ha mandato l'emoticon il dito medio alzato, cioè non ho capito se voleva dire che l'ho stancata questa mattina con questa roba qui o cosa. In realtà, no, ci siamo chiesti come edulcoreranno il significato di questo emoticon sul sito, aspetta che devo leggere ogni volta, emoticonsignificato.it niente, dicono che nella cultura occidentale il dito medio alzato è un gesto rude e offensivo, quindi rimangono così nel vago, non specificano dove quel dito lo devi andare a infilare, quindi no, nel senso, stanno un po' più nel vago, ho esagerato Elisa, no, un pochino, dice, ma non ho detto niente, dai, nel senso, comunque questo è e io veramente ragazzi mettetelo nei vostri preferiti put this site on your favorite emoticonsignificato.it non può che non essere il primo sito che ogni mattina quando vi alzate andate a vedere prima ancora delle notizie, prima ancora del meteo c'è emoticonsignificato.it oh, mi manda anche Elisa le due mani giunte in preghiera, così dice, persona con le mani giunte in atto di preghiera, due mani giunte, qualcuno appena tornato in sé recita una preghiera o spera di raggiungere l'illuminazione. Viene utilizzato anche come high five e per ringraziare, cioè come batti il cinque. Eh, però, non vorrei fare il tecnico, quella che mi è stata mandata adesso è quella, cioè, io ricordo che questa versione delle due mani giunte ce n'era una versione con una sorta di sbuffo in alto, quasi a significare il fatto che le due mani fossero proprio, cioè, questo, ok, il concetto era questo, cioè, andava a ricordare l'impatto delle due mani, invece in questa versione non c'è, non vorrei che negli anni sia stata modificata, oppure invece veramente nasceva già così, e questo, vedi, adesso abbiamo un mistero, un mistero da capire, chiamiamo Alberto Angela, vediamo se lui ci può dare una soluzione a questo tema, perché non è scomplicato, comunque, io ve lo dico, ragazzi, il sito che vi risolverà la vita è Emoticon, significato.it e la giornata si svolta, cerchiamo di svoltarla però anche con la musica che potete sempre ascoltare qui su Cristian Radio, grazie davvero all'ufficio programmazione che questa mattina ci dà grandi musica come quella che sta arrivando in questo momento, facciamo un salto nel passato, nel 1966, ma vi assicuro che sembra una canzone di ieri, alla canterete, alla ballerete tutti insieme, loro sono i Beach Boys e vi danno, vi portano, vi buttano addosso delle Good Vibration. Good Vibration, The Beach Boys, e sale 8 e 13 minuti qui sempre su Cristian Radio, Good Morning Milano, Elisa Galmaini ci ha preso il gusto questa mattina di mandare migliormonico, basta, perché mi ha mandato anche il saluto vulcaniano, e sì, è quello lì che, pensa che il saluto vulcaniano so farlo da una mano ma non dall'altra, chi sta guardando in questo momento su Good Morning Milano vedrà che c'è la mano sinistra, non mi si chiude il mignolo, invece la destra riesco, non so perché, vabbè, sembro, comunque. Saluto vulcaniano, come viene spiegato il saluto vulcaniano, non sapevo che ha in realtà un'origine quasi antica, perché dita, due dita separate tra l'anulare e il medio, così da formare una V, questo segno con la mano trae origine da una benedizione ebraica, pensate, ed è diventata popolare grazie alla serie Star Trek saluto appunto vulcaniano e al dottor Spock lunga vita e pace ma nella prosperità, comunque, non sono un fan di Star Trek, mi spiace darvi questa notizia, non so, magari non mi interessa niente, a differenza del buon Sheldon Cooper che è un grande fan di Star Trek, Sheldon Cooper di The Big Bang Theory, io non sono invece un grande fan di Star Trek, mi piace, mi spiace, mi spiace, chiedo scusa, chissà se invece è un fan, di Star Trek, il sindaco Sala, che insomma, un po' di pace e prosperità ce l'aveva bisogno, perché è tornato ancora a parlare di Stadio San Siro, finalmente è arrivato bene il suo, diciamo, la bocciatura, proprio, così dice almeno Corriere da Sera Milano, dice Stadi, di Inter e Milano, la bocciatura di Sala, due nuovi impianti fuori Milano, impossibile, troppo vicini al Parco Sud, tra parentesi così vicini che è andato proprio dentro in alcun caso, comunque, il sindaco Beppe Sala contro l'abbandono di San Siro e i progetti del club milanesi, tifo per il Meazza, voglio sapere quali sono i piani di OCTRI, il progetto di Populus per il stadio per l'Inter a Rozzano è praticamente attaccato a Tangenziale Ovest in territorio del Parco Rigolo Sud di Milano, adesso non so se è proprio precisamente dentro il territorio, ma comunque attaccato, adiacente, vicino di casa, chiamatelo come volete, e così dice Sala che due stadi così vicini non possono coesistere, appunto il sindaco Sala porta acqua al suo mulino e boccia senza pelle la possibilità che i Milano e Inter costruiscono il loro nuovo impianto in aree verdi e un tiro di schioppo l'uno dall'altro. Il masterplan invece di Manica che per il Milan vede l'area sul San Francesco a San Donato, anche esso inserito all'interno di zone risultanti da svincoli autostradali e tangenziali, anche lì praticamente ha un passo dal Parco Agricolo ma soprattutto questo lo sappiamo ha un passo da Chiaravalle, dalla Abazia, dalle case, da tutto quello che ne comporta, quindi non è solo un discorso ambientale, non è solo un discorso stoico e non è solo un discorso diciamo di cittadini che giustamente non vorrebbero uno stadio sopra casa loro dove non c'era perché ragazzi è questo che dico sempre il problema non è lo stadio di San Siro cioè noi siamo qua attaccati allo stadio di San Siro saremmo stupidi a lamentarci del fatto che lo stadio di San Siro ci sono le partite ci sono i concerti ci sono sempre stati cioè le partite ci sono dagli anni 60 se non ancora prima in questa conformazione di stadio dagli anni 90 i concerti ricordiamo Ben Nato Bon Marley nel 1980 quindi insomma lo sai che se vieni qua hai quella roba lì è come quello che va adesso a vivere a Malpensa e dice ma c'è l'idea che mi passa sopra la testa ma dai che strano si chiama Malpensa il posto come l'aeroporto è notato diverso è quando invece ti costruiscono una cosa dove prima non c'era quindi tu vai a San Donato a Chiara Valle per vivere in un posto tranquillo e ti costruiscono uno stadio sopra la testa lì un po' più insomma capisco che uno si possa arrabbiare Marina Ray primavera ed è subito un salto nel passato anche per molti di voi che ci stanno ascoltando come ad esempio il Whatsapp che è arrivato che ci dice al 3317853555 di colpo hai 13 anni e stai andando a scuola mentre Marina Ray ti canta primavera nel Walkman grazie Fabio prego questa è la grande musica di Crystal Radio è quello che cerchiamo di fare darvi la giusta energia le good vibration come dicevano poco fa i Beach Boys per iniziare la giornata al meglio anche perché magari la serata non è l'altra delle migliori come ad esempio e qui verrebbe da dire ma ve l'avevamo detto cioè non io ma molti ve l'avevano detto stiamo parlando del Latin Festival pepepepepe ebbene sì perché c'è il Latin Festival traffico e sosta selvaggia a Quinto Romano organizzato per la prima volta in città mentre fino all'anno scorso si teneva ad assago il Latin Festival impatta parecchio e io dico e come se parecchio su Quinto Romano ma insomma nessuno se lo aspettava giustamente e invece no perché da più parti anche il municipio 7 sto leggendo da Milano Today in questo momento si era aveva avvertito che l'area non sarebbe stata pronta a subire l'impatto di migliaia di persone ogni sera o quasi per due mesi e mezzo e quindi si passa dal parcheggio selvaggio sui marciapiedi alle fiumane che si dirigono verso il luogo dell'evento appunto l'acquatica di Quinto Romano sembra che tutte le previsioni preoccupanti della vigilia siano state confermate almeno così durante le prime due serate della manifestazione iniziata da tre giorni praticamente e c'è già il caos benissimo contenti tutti quanti soprattutto quelli che abitano lì in zona e ripeto anche lì io vado a vivere a Quinto Romano perché voglio stare in un posto tranquillo voglio oppure perché anche Baggio ragazzi non è solo Quinto Romano è anche dall'altra parte la via Quinto Romano che porta Baggio quindi tutte le case dietro via Scanini con la zona lì è praticamente invasa da tutti quelli che giustamente vogliono andare al Latin Festival perché se è un anno lo aspettano lo aspettano da un anno e vogliono andare al Latin Festival però poi dopo impattano con un luogo che non è idoneo per quella roba lì e allora ci si chiede sempre ma perché non si fanno i luoghi idonei non ci sono non si sanno dove sono ma c'era c'era Assago perché non l'avete fatto lì l'avete sempre fatto lì e lì impatta perché impatta perché quelli di Assago non è che sono felicissimi però ci sono i parcheggi e ce ne sono una migliaia c'è la metropolitana che arriva a Quinto Romano ci arriva al 64 cioè adesso ma da malati in festival vamonos vamonos con la 64 ma no non ci vai cioè nel senso ovvio che vai in macchina tanto che tanto che il presidente credo il direttore adesso sì il direttore Fabio Messerotti ha scritto una lettera in cui dice eh deseo expresar misdisculpas por los inconvenientes logistical relacionado con il concerto del gruppo 5 a nombre mio e da parte di toda la famiglia del mariano latin festival questa e poi c'è scritto altre robe che non ho non sono capace di tradurre cioè comunque ah no altrimenti dice non tenemos la intenzione di incontrare scuse cioè non abbiamo intenzione di trovare scuse però l'abbiamente quando nos enfrentamos in un grande evento come il es una nuova locasión con casas y cajes municipales adiacentes all'evento lasistón crean no es facile ah credetemi non è facile dice cioè dice poche parole però quando si crede si fa una manifestazione del genere una nuova location vicino alle strade del cittadino la cajes municipales credo siano le vie del paese le vie di cittadine adiacente all'evento e alle case delle persone credetemi la gestione non è facile non fatelo non fatelo lì non fatelo anzi è bellissimo l'attivest non fatelo lì magari ti voglio bene Tiziano Ferro questa mattina grande musica devo dire complimenti salti nel passato della nostra gioventù Tiziano Ferro ti voglio bene ma lui dice non lo so continua a dire non lo so la fine della frase è un po' quello che potremmo dire se ti chiedono oggi che tempo c'è non lo so perché allora da questa mattina alle 7 abbiamo interpellato qualsiasi sito e qualsiasi assistente vocale continua a darci risposte diverse ad esempio sentite questo cosa vi dice oggi pioverà è poco probabile che pioverà nel tardo pomeriggio a partire dalle 6 di sera ecco allora l'avete riconosciuta la voce è lei è Siri risposta criptica è poco probabile che pioverà nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 che informaticamente parlando o matematicamente parlando ha un senso ma semanticamente parlando invece è poco probabile che pioverà se mai potrebbe piovere qualcosa alle 18 invece no perché vuol dire che ci sono poche probabilità di possibilità di pioggia intorno alle ore 18 quindi voglio dire che in teoria non piove ma l'altro cosa dice invece pioverà oggi oggi potrebbe piovere la probabilità che piova è un 51% alle 4 del pomeriggio ecco allora decidetevi piova alle 4 del pomeriggio o alle 18 è poco probabile al 40% o abbastanza probabile 50% insomma non è proprio bassissima probabilità è una mezza e mezza quindi c'è testo croce e allora vai sui siti e sui siti quindi mi hai detto 18 uno 16 ed altro sul sito ti dice alle 17 così fa la media dice 17 quanto piove non si sa tra 0,3 e 0,6 mm modeste le precipitazioni poi alle 8 dovrebbe ripartire a piovere secondo il sito qua che sto guardando non ho appena aggiornato ma ecco è un aggiornato ragazzi così sono capace più poi di fare le previsioni hanno appena aggiornato e hanno abbassato la probabilità di pioggia alle ore 17 ho capito ma non è che adesso ma aumentata quella alle ore 20 io non so più cosa fare non so più non so più come è possibile capire se piove se non piove non so cosa dirvi cercate ripeto portatevi tutto quello possibile dall'ombrello all'impermeabile al costume da bagno a un giaccavento dell'infradito e degli scarponi così almeno siete sicuri che tornate a casa sani e salvi l'unico modo che ho di dirvi perché abbiamo interpellato un sito due assistenti vocali e uno dice che non piove alle 18 l'altro non piove alle 17 ma è molto probabile perché è il 50% l'altro è poco probabile perché è il 40% insomma e qui si che si può dire solamente una cosa che non ci sono più le mezze stagioni ebbene si è l'unica cosa che possiamo dire effettivamente non possiamo dire nient'altro se non quello e vabbè comunque noi siamo qua sempre con un po' di giornali davanti la questione urbanistica continua ad essere sott'occhio e attenzionata anche quest'oggi dalla CGL leggiamo da Repubblica Milano urbanistica l'attacco della CGL al sindaco sala ha fatto di Milano un Luna Park che ha favorito le speculazioni beh pesantina stanzione i piacentini dicono non può lamentarsi per gli oneri bassi sono stati fermi 16 anni questo dice appunto Repubblica Milano il sindaco si lamenta il mancato gettito degli oneri di urbanizzazione ma il comune di Milano ha provveduto ad aumentarli solo una volta negli ultimi 16 anni e per importi del tutto insufficienti rispetto alle grandi città europee e alla necessità di chi a Milano vive e lavora e quindi insomma la colpa qui il CGL la fa ricadere su sala in quanto diciamo capo della giunta comunale appunto in quanto sindaco di Milano e a dirlo sono appunto Luca Stanzione segretario generale della Camera di Lavoro e Riccardo Piacentini segretario generale della Fillea CGL questa è la musica di Cristal Radio invece Comacose con Malavita l'ultimo singolo appunto dei Comacose che sapete amiamo alla follia qui a Good Morning Milano e torniamo invece a parlare della questione urbanistica perché appunto il sindacato la CGL attacca sala proprio frontalmente vorrei dire su questo tema i sindacalisti leggo da Repubblica Milano chiedono di ripensare quindi a un modello Milano nel suo complesso l'impasse che Milano sta vivendo proseguono appunto i due sindacalisti deve essere l'occasione per sedersi e ripensare il modello attuale non per chiedere i corsieri preferenziali noi chiediamo un confronto per una città che invece di escludere chi cerca casa o un lavoro escluda invece i furbi e gli speculatori proponiamo un patto territoriale per far ripartire i cantieri e la città su presupposti esattamente opposti Milano deve davvero continuare ad essere la piazza dove qualunque attore economico privato può entrare e servirsi dettando condizioni senza nessun reale vincolo su un'applicazione dei contratti nazionali limitazioni di subappalti verifica dei requisiti di impresa formazione regolità e sicurezza questo si chiede i sindacalisti ovviamente noi crediamo di no rispondono a commentare questa uscita della CGL anche Carlo Monguzzi era un po' che non nominavamo radio Carlo Monguzzi era un po' che non non ne parlavamo che più volte appunto ha espresso la sua contrarietà alla norma salva a Milano e dice anche la CGL chiede di finirla con il Luna Park urbanistico e rileva come il comune non abbia aumentato gli oneri di urbanizzazione per 16 anni causando problemi economici non indifferenti sì capisco anche qui Monguzzi che vogliamo sempre mettere l'accento su questa cosa degli oneri io metterei più l'accento sul discorso invece dell'una park cioè della pazzia del continuare a fare investimenti immobiliari ed edilizi in una città che insomma lo spazio è quello che è snap rhythm is a dancer alle 8 e 46 minuti qui su Cristal Radio 47 minuti in questo istante è il weekend quello che arriva delle elezioni e da Corriere della Sera a Milano leggiamo qualche numero interessante sulle elezioni che stanno arrivando sono 4.979 gli universitari fuori sede che per la prima volta potranno votare a Milano seggi allestiti in Cattolica e al Politecnico l'ultima volta poi invece parlando di milanesi in totalità l'ultima volta che i milanesi a 20 diritto alle europee superavano il milione era stato nel 2004 20 anni fa bene tornano o più di un milione alle 1 i diritti quelli che possono votare ok gli a 20 diritto scusate gli a 20 diritto al voto a Milano questa tornata elettorale sono 1.042.286 ecco un numero niente male nel senso che fa capire quanto mai siamo in tanti in questa città quindi c'è poco da esultare elezioni inclusive il comune chiede una sola fila ai seggi per uomini e donne voglio capire come faranno però perché se arrivano ancora i registri di visita uomo e donna sarà il caos allora io mi sono sempre chiesto perché questi registri invece non vengono riscritti e fatti divisi in ALMZ come una volta era quello del telefono la guida telefonica cioè in qualche maniera devi dividere non è che possiamo fare una fila sola oppure cosa fai stampi non puoi neanche più stampare più di un registro perché tu devi segnarlo quindi non è che puoi avere 8 file quindi vai da uno solo va bene che tanto sanno già che non ci va nessuno a votare ho questo presentimento ho questo presentimento invece arriva un whatsapp a cui voglio dare risposta perché ci chiede Nello in cosa consiste la norma salva Milano oltretutto con un gioco di parole che ha a che fare con la parte posteriore del nostro corpo perché effettivamente sembra un po' chi ci debba salvare quella parte lì questa norma che deve arrivare la cosa più divertente di questa norma salva Milano è che non si sa cosa ci sarà dentro perché chiunque dice la sua Salvini ha detto che non sarà un condono non sarà una cosa che lascerà liberi tutti altri dicono appunto che non deve essere un liberi tutti ma bisogna riscrivere le regole altri dicono che non sarà una riscrittura delle regole ma sarà un'interpretazione nuova e giusta e corretta di quelle regole che già esistono insomma è una norma che non esiste al momento tant'è che mi viene da dire doveva essere messa in gazzetta ufficiale dentro all'ultimo decreto legge fatto dal governo e non c'è andata quindi vorrei capire com'è che non è ancora uscito com'è che non c'è questa norma forse non hanno ancora scritta il dubbio il dubbio mi viene però nel senso è veramente che forse invece di salva Milano dovrebbe essere salvami nel senso sembra veramente un po' una norma che ci salva un po' il sedere e quindi insomma dobbiamo un po' capire da che parte la scriveranno e chi la scriverà e come la scriverà perché insomma è veramente complicato poi quando si fanno queste norme ad hoc io ho sempre un po' paura nel senso che nei rigoli dovrebbero esistere perché io sono uno che odia le regole ragazzi cioè le regole non sono neanche cosa stanno in casa però per certe robe sono necessarie cioè non è che ognuno può costruire quello che vuole adesso qui c'ho la parete dello studio mi piace bella tiro giù un pezzo tanto di qua non c'è nessuno di là c'è un giardino volendo io adesso tiro giù un pezzo faccio una finestra eh no non è che puoi fare proprio quello che vuoi pensa che io non posso avere una finestra giustamente nel mio muro così perché mi va di allargarmi e vedere il giardino nel vicino pensa che c'è gente che è riuscita a costruire un grattacielo dentro un cortile però cioè è questo che vuoi capire come sia possibile qui non serve la norma salva Milano ma serve una norma forse più generale che non sia interpretabile poi da chi deve costruire o da chi deve dare le concessioni 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano sempre qui in diretta su Crystal Radio giornata di compleanni ho un triplo compleanno questa mattina da dover fare da dover da voler fare da voler fare gli auguri ancora a chi allora Alessia tantissimi auguri ad Alessia tantissimi auguri ad Arianna e tantissimi auguri al Toso Tosetti oggi è il vostro compleanno festeggiate tutti insieme magari potrebbe essere una cosa bella uno sta di là uno su comunque non è un problema troviamoci facciamo feste tutti insieme tanti auguri ancora al Toso Tosetti ad Arianna e ad Alessia la scena è stata bella perché quando ho iniziato a parlare di compleanni qualcuno ha alzato la testa e dice no grazie e no non era per te Elisa tanti auguri a Elisa Galmarini la nostra producer grazie grazie mille ti è piaciuto ho fatto lo scherzo ho fatto film tutta la mattina che non ti ho fatto gli auguri ti è piaciuta? sì ho imparato a tagliare in versetti che non vi dico cosa ha fatto con la figlia no 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 tanti auguri grazie mille finalmente maggiorenne eh sì esatto esatto e allora tanti auguri a Elisa non ce ne vogliono gli altri tre però beh Elisa tu sei cotta le mattine quindi tantissimi auguri buon compleanno a Elisa grazie mille grazie domani senza compleanni evidentemente perché tutti oggi li abbiamo fatti siamo qui sempre in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano questa è la nostra mattina questo è quello che facciamo tutte le mattine buona giornata domani ciao